bentornati a casa mia videoprova delle nuove gold fab di faber casta prese con circa 20 euro di sconto prezzo pieno 50 euro su amazon già circa 10 euro li toglievano loro più mi hanno offerto questo buono sconto se facevo il primo acquisto d'app ho scaricato l'app che non avevo e quindi insomma alla fine 31 e 15 piuttosto che i 50 euro che sono il prezzo pieno queste sono le tonalità come vedete ci sono diverse parecchie tonalità di verde insomma come gamba colori ci siamo ecco insomma sono 48 matite c'è loro l'argento ecco ci sono un paio di grigi il canonico bianco e gialli insomma sono colori all'apparenza abbastanza vivaci ora dobbiamo fare la prova io ho fatto già il colorario la scheda colori che però in questo momento non ha portato di mano e sentivo la matita che graffiava un po sulla carta e a me questo effetto non è che piaccia molto comunque adesso vediamo preso un marrone al volo la numero 283 ero indecisa se rimandarle indietro ma poi la procedura insomma un po complicata ma non complicata però credo che poi dal rimborso detraggano le spese dispedizione comunque sono matite colorate di qualità perché comunque sulla qualità non si può discutere la sento molto leggero l'ho già detto questa questa matita ora dobbiamo vedere la resa la resistenza sia a pressione che alla temperata comunque insomma ecco questo spostiamo un attimino e vi faccio vedere che ho completato io lo sapete ripetuto miliardi di volte non sono capace a colorare lo faccio solamente per rilassarmi a scuola in disegno penso che avessi tre mi pare di ricordare ho completato questo disegno sempre tratto dal country gardens coloring book con le marco raffiné eccole qua ecco dietro ci sono i gold faber le raffiné sono queste e praticamente che matite che ho riscoperto che sto usando come matite principali e ovviamente cercherò di terminare queste e anche perché sono credo una sessantina perché circa una dozzina le ho eliminate perché erano proprio non scrivevano e poi ce ne sono ecco strada facendo non ho beccato anche un'altra da eliminare che sarebbe questa qui questo azzurro molto chiaro che scrive poco e niente infatti poi qua sotto ho fatto con l'azzurro leggermente più scuro però sempre un celeste e quindi insomma diciamo che le marco raffiné su questa carta mi stanno dando soddisfazioni e quindi le sto utilizzando come matite principali però ora con voi volevo fare la prova sempre gatti permettendo del questo è un nuovo disegno dei faber castel dopodiché poi le ripongo infatti lo tirate fuori solo per fare il video e le tengo in attesa che si consumino le altre praticamente è giustamente insomma c'è non c'è non tante iniziate quindi voglio voglio cercare di definirle allora vediamo il tratto dunque facciamo questo è un cancelletto di legno un cino di legno e beh sentiamo se gratta no non gratta non gratta su questa non graffia gratta come si dice su questa tipologia di carta colore saturo omogeneo non brillantissimo ma io penso che questo sia proprio un difetto tra virgolette delle faber castel di tutte credo le faber castel perché io poi ho visto anche le le comparazioni tra i prisma color e le policromos della faber castel è che sono molto più care ovviamente quindi non mi avvicino nemmeno poi chissà in futuro vediamo folle come sono per le matite colorate vediamo un attimino ecco pensi il colore saturo vedete insomma devo dire che sì ma che cosa sto inquadrando betta sanotto dormito malissimo non sono stato tanto bene con lo stomaco quindi sono mezza rimbambita per non dire tutta ecco qua insomma se il colore saturo ovviamente schiarisce anche un po la videocamera però è saturo omogeneo non gratta vediamo il consumo della mina è questa dovrebbe essere una mina che comunque si consuma lentamente è abbastanza resistente ecco almeno da quello che prendiamo un altro marrone vogliamo un attimino un po più scuro questa qui che è la numero allora la 170 scusate la 176 queste sono le faber castel gold faber semplici e non acquerellabili poi c'è anche la versione acquerellabile ma io non acquerello quindi non le prendo sì insomma devo dire che sono buone calcando un bel po il colore è più vivido vedete e invece con una pressione leggera insomma però devo dire insomma sono discreto ho fatto bene a tenerle insomma e me le conservo così me le me le sfrutterò più in line insomma ecco quando comincerò a terminare le matite vecchie ok sette minuti va bene così dai vi saluto vi auguro buon fine settimana stamattina oggi è sabato sabato mattina vado a stendere i panni e poi vado a fare altre mille cose un abbraccione grande alla prossima ciao 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 grazie a nuovi iscritti e ciao ciao ciao